Buongiorno, oggi è il 23 agosto del 2014, mi trovo a Roma a casa dell'amico mio Francesco Basile e approfittiamo di questo momento bellissimo per poter fare questo video. Ho chiesto a Francesco di condividere qualcosa brevemente per il nostro video che speriamo di farlo sempre più diventare quotidiano. Francesco, Basile... Grazie Corrado, è un vero piacere essere insieme e vi saluto. Corrado è una persona speciale per tutti noi, sono contento di averlo qui a casa e in questi giorni faremo qualcosa insieme. Un qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore, su cui parlare in quest'ultimo periodo è del fatto che noi spesso diciamo di credere in Gesù, io credo, io credo, io credo ma nella parola di Dio non ci è mai stato chiesto solo di credere. Ci siamo limitati nella nostra cristianità al primo passo, alla prima fase, al primo stage quello di credere in Gesù, credere nel Signore. Ma il Signore non ha mai chiamato i Suoi a credere in Lui ma sempre a seguirlo. Quando si è avvicinato a Giovanni ed Andrea, stavano pescando con loro papà e gli ha detto seguitemi. Quando si è avvicinato a Pietro e suo fratello, scusate Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni gli ha detto seguitemi. E lo ritroviamo questo passaggio anche quando, proprio dopo la resurrezione, quando Gesù aveva preparato del pesce, si trovò a parlare con Pietro e gli ha detto mi ami tu, sapete bene quel passaggio. Per tre volte Gesù gli ha detto pasci i miei agnelli, cibale i miei pecore. E poi Pietro gli fa una domanda molto interessante. In Giovanni, se non sbaglio, il capitolo 21, verso 22, parlando di Giovanni, dice Signore ma che cosa ne sarà di Lui? E Gesù gli dice che ti importa? Tu seguimi. Molto spesso noi perdiamo quella che è la chiamata di Dio a seguirlo, quello che è il proponimento, la perfetta volontà di Dio nella nostra vita. Perdiamo il nostro tempo dietro le cose sbagliate. Uno, lo perdiamo a pensare a quello che gli altri stanno facendo con Dio, pensando, è così Corrado, consideriamo il loro modo di servire Dio, il loro modo di interpretare la fede, il loro modo di predicare, i loro errori. Quando Gesù ha detto chiaramente che ti importa a te, tu seguimi. E un secondo errore che facciamo spesso è che crediamo in Gesù, ma non siamo disposti a seguirlo. Fin quando tu credi in qualcuno, ma rimani sulle tue posizioni, fin quando tu credi in qualcuno, ma continui a fare quello che hai sempre voluto fare, tu hai fatto di quella persona forse il tuo idolo, ma non lo hai fatto ancora il tuo Signore. Perché Signore significa padrone, significa che Lui ti dice dove andare, significa che Lui ti dice cosa fare e tu semplicemente obbedisci, semplicemente credi. Il vero cristianesimo, in conclusione, non è credere in Gesù, ma è seguire Gesù. Il vero cristianesimo non è essere credenti o fare riempire le nostre chiese di credenti, e il vero cristianesimo è fare discepoli e soprattutto essere discepolo. Gesù ha detto a Pietro, oggi tu fai un po' quello che vuoi, ma arriverà il giorno dove ti porteranno, dove tu non volevi andare. Molto spesso noi non ci rendiamo conto, ma viviamo la nostra vita con Dio, dove è Lui quello che ci deve servire. Noi siamo i padroni, il Signore Lui è il servo. Signore fammi questo, dimmi questo, dammi quest'altro. Benedicimi qua. Benedicimi, benedici la mia famiglia. Ma in realtà, una volta il Signore mi ha detto, Corrado, Francesco, tu come tanti altri chiedi a me quello che io devo fare per te. Ma il Signore mi ha detto una volta, posso io chiederti qualcosa? Posso io chiedere a te di fare qualcosa per me? Il cristianesimo è arrivare al punto dove a volte dobbiamo andare anche dove non vogliamo andare, dove dobbiamo permettere a Dio di guidarci anche dove vorremmo evitare. Il cristianesimo è seguire Gesù. Diciamo, riflettendo su questo, sicuramente possiamo vedere una cosa fondamentale, che avere fede in Gesù serve sicuramente per avere la salvezza, per diventare figli di Dio, per entrare a far parte del Regno di Dio. È chiaro che il discepolato non serve per la salvezza, il discepolato serve per questa vita, serve per testimoniare ad altri di quello che Gesù ha fatto in noi. Quindi è vero che in cielo ci va chi crede in Gesù, però è anche vero che il comando di Gesù ai suoi discepoli, non ai suoi credenti, ai suoi discepoli è quello di riprodurre altri discepoli, perché in un modo e in un altro, che lo vogliamo o no, la gente in questa vita e in questo mondo deve vedere la differenza, la differenza di persone che non solo credono, come diceva Francesca, come diceva la Bibbia, di persone che sono disposte a fare quello che il Maestro dice, quello che il Signore dice. Quindi è vero, la fede ci serve per la salvezza, per ottenere la vita eterna, però una vita di discepolato ci serve per testimoniare ad altri quello che Cristo ha fatto nella nostra vita e quindi nella vita di discepolato si impara ad amare le persone che ci fanno del male, si impara a perdonare, a fare delle rinunce, a rinunciare alle tue cose, alle proprie ambizioni, ai propri sogni, ai propri desideri per prendere la croce e seguire Gesù, quindi gloria a Dio per questo. Vogliamo fare anche, vogliamo utilizzare anche questa bellissima occasione per invitarvi per questi tre giorni a Roma, cosa ci sarà? Sì, avremo questa sera, sabato 23 alle 21 a Civitavecchia, al Parco dell'Uliveto, un evento evangelistico con Corrado, poi domani, domenica 24, avremo la mattina alle 10.30 la riunione nella chiesa di Ladispoli, potrete trovare tutte le informazioni su ladispoligospel.it, alle 10.30 Ladispoli, alle 18.30 a Civitavecchia, anche lì trovate l'indirizzo sul sito, mentre lunedì sarà l'evento più grande, una evangelizzazione nella piazza principale di Ladispoli, inizieremo dalle 21, piazza Rossellini. Insomma, sono tre giornate da paura, vi aspettiamo. Da paura! E da Fiumicino è tutto, vi vogliamo bene, vi amiamo e grazie sempre di esistere, siete speciali. Ciao! Ciao!